Entro il mese di luglio, tempo permettendo, anche le zone di Carignano e Ronco-Sambaccio avranno le nuove asfaltature nelle strade. Dopo il lungomare di Sassoni e di Torrette e di Fano i lavori inizieranno qui i primi di giugno. Intanto ha preso il via la fase di preparazione. Questa mattina l'assessore ai lavori pubblici Cristian Fanese ha effettuato un sopralluogo per avvisionare l'avvio del cantiere. Partono ovviamente dall'Alfinile per arrivare fino all'abitato di Carignano per la via del Boschetto. Sono lavori importanti, tanto attesi, infatti anche stamattina la gente ci ha accolto anche a braccia aperta, nel senso che si aspettava che iniziassero. Questa settimana ovviamente la ditta Cristini che ha vinto l'appalto dei sei lotti in cui abbiamo diviso la città inizia i lavori con le pulizie dell'erba, con il taglio dell'erba, con la pulizia delle caditoie stradali. Poi dopo il ponte al primo di giugno inizieranno i lavori veri e propri di asfaltatura lungo tutta la strada che prevederanno, anche la sistemazione delle frane. I dissesti franosi erano stati provocati a causa del maltempo a marzo 2015, causando notevoli disagi alla viabilità e danni sia alla rete del gas che alle tubazioni dell'acquedotto. I residenti chiedevano da tempo un intervento urgente da parte del comune. Questa sollecitazione è stata fatta agli amministratori anche durante l'ultima assemblea pubblica ed ora, una volta stabilizzati i movimenti frannosi, si potrà procedere a ripristinare il manto stradale. Una volta terminati qui, dove proseguiranno i lavori? Sì, non saranno solo per Carignano, saranno anche per la zona di Rocco Sambaccio, quindi faremo successivamente anche la sistemazione sia della strada che passa nel centro abitato di Rocco Sambaccio, con anche dei restringimenti per limitare la velocità e anche via del castello, che è la strada che appunto dal Fenile sale su per Rocco Sambaccio. Quindi sono altri chilometri di strada che aggiungiamo quelli comunque già in corso d'opera. L'appalto prevede una spesa complessiva a base d'asta di oltre 600 mila euro.